I mandrini verticali, che sono una delle caratteristiche della linea spindle, aiutano l'evacuazione del trucciolo. Il problema del trucciolo molto lungo e fastidioso è difficilmente risolvibile e non può essere cambiato. Quello che può invece essere fatto è gestire il trucciolo in maniera diversa. Per esempio, con un'apposita ergonomia della macchina che prevede la posizione dei mandrini verticali, si può aiutare l'evacuazione del trucciolo. I truccioli lavorati nei mandrini superiori cadono naturalmente, mentre quelli che si creano nella parte inferiore potrebbero effettivamente dare qualche problema in più, ma si possono però utilizzare dei soffi a scelta all'interno del mandrino o all'interno dell'utensile e anche esternamente per rimuovere il trucciolo. Quando lavori materiali come ottone senza piombo o alluminio o acciaio stampato a freddo, per esempio nei transfer tradizionali, il filo del trucciolo è molto lungo e finisce per attorcigliarsi intorno all'utensile, con conseguenza necessità di fermare la macchina. Con linea splinder questi fermi in macchina sono stati ridotti all'osso.